Sono stati terminati e presentati i lavori che hanno interessato l'abitato storico della frazione di Miano a Teramo. L'intervento da circa 150 mila euro riguardato il rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi nel cuore del popoloso quartiere periferico. Un primo step alla quale stanno seguendo i lavori portati avanti dalla diocesi di Teramo Atri che stanno interessando la piccola e caratteristica chiesa. Una riqualificazione importante anche qui a Miano dopo quella di Forcella che ha caratterizzato il centro storico, i sottoservizi che ci sono, quindi sia le impianti di fognature, i draulici e quant'altro. Devo dire che è un lavoro importante, imponente, sono stati riportati San Pietrini all'interno di questo borgo fantastico, dall'asfalto, siamo passati quindi dall'asfalto, un manto, un tappetino di asfalto sicuramente usurato ad una situazione veramente non gradevole, bella, bellissima, che dà merito non solo al lavoro ma anche alla qualità di questo bellissimo borgo. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di dare delle risposte concrete a tutte le frazioni, questo soprattutto grazie ai fondi che il Comune è riuscito ad intercettare dal PNRR. Prossimamente ci verrà impegnati su Cavuccio dove sono in corso i lavori e che in qualche modo rappresenterà un ulteriore passo in avanti, i territori frazionali non sono stati dimenticati, questa amministrazione lo ha sempre detto, stava proprio nel nostro programma, abbiamo impegnato su questa frazione su diversi interventi che si sono caratterizzati nel tempo, sia sul cimitero, più interventi sul cimitero, sia la creazione di nuovi loculi, sia la sistemazione del cimitero, anche sulla piazza principale adesso inizieranno dei lavori, questi lavori qui, più i lavori che abbiamo fatto all'impianto sportivo, insomma si caratterizzano in una somma di oltre 500 mila euro che rappresenta un intervento economicamente parlando importante e che dà merito al valore che diamo non solo al borgo ma a tutti i nostri concittadini delle frazioni. Piano piano arriveremo in tutte le frazioni, i lavori si stanno eseguendo, devo dire che questo di Miano rappresenta sicuramente dopo quello di Forcella un altro intervento importante, riqualificante, sia sotto il profilo urbanistico che non solo urbanistico.